Bene amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video e vado a recensire le ViviDent. Il pacchettino si presenta mezzo verde e mezzo argentato. Andiamo a vedere il nostro confetto com'è. È mezzo verde chiaro e mezzo bianco. Il profumo non è eccessivo, è profumo molto delicato, senza zucchero. Grazie a tutti. Accidenti, danno un effetto particolarissimo, sono buonissime. Eccellente, è eccellente proprio. Bene con questo io vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.